Andiamo a definire, a chiarire quello che per me doveva essere chiaro pure prima. Io ho sempre detto che se qualcuno abusa, è la responsabilità di chi abusa. Io credo che la riflessione da fare è questa qua. Io sono contro ogni forma chiaramente di privilegio, di benefit e di quant'altro. Allora, attualmente si applica, quello che si applica in tutta Italia, nei luoghi come gli stati, teatri ed altro, c'è un cerimoniale che ha l'elenco di quelle che sono le autorità. Le autorità che appunto sono gli assessori, sono i prefetti, sono alcuni magistrati, questori eccetera. E a quello scrupolosamente ci si atterrà. Poi c'è il tema che si può anche arrivare, abbiamo detto più volte, anche o a eliminare proprio le autorità. E questo per quanto mi riguarda mi vede assolutamente laicamente schierato anche su cose di questo tipo. E poi c'è il tema di ogni singola persona, se vuole o meno andare allo Stato. Invece quello che abbiamo chiarito con precisione, per me era chiaro già prima, però l'ho voluto fare personalmente, come ho preso impegno in Consiglio Comunale, l'assoluta impossibilità della ceditura del biglietto. Cioè nel senso che non si può fare il mercato dei biglietti. Quindi credo che sia scritta una parola di chiarezza e mi auguro anche che a un certo punto questa telenovela si porra a fine, perché mi sembra anche un argomento di cui si è parlato fin troppo. Ma avete in programma un incontro al Presidente per la prima convenzione? Noi ci stiamo sentendo, ci siamo sentendo, ci siamo anche visti l'altro giorno in occasione dell'iniziativa a Napoli con Luca De Filippo molto importante. Si sentono molto spesso il mio capo di gabinetto con Alessandro Formisano. Insomma, noi vogliamo che questi 45 giorni siano 45 giorni profiqui. Quindi si va nella direzione di un lavoro costante. Anche l'altro giorno a Biglieri ho incontrato i vertici del credito sportivo. Quindi stiamo veramente lavorando tanto. Lavorando tanto per un obiettivo importante, sia con il calcio Napoli, per il raggiungimento dell'accordo, ma anche per quell'altra cosa importantissima, c'è ottenere immediatamente il denaro spendibile per i lavori urgenti di riqualificazione allo Stato San Paolo. Mi riferisco ai seggiolini, ai bagni, agli impianti tecnologici più urgenti. Quindi io per ora sono soddisfatto del lavoro che si sta facendo. Quindi i lavori urgenti li potreste fare voi con i fondi al credito sportivo? Ci stiamo muovendo per quello. Poi sarà decisivo che cosa accade nei 45 giorni. Perché se nei 45 giorni si fanno passi da gigante potrebbe anche non essere necessario. Però noi ci prepariamo a quello che significherebbe fine del campionato e immediato inizio dei lavori.